Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È giunto anche il commento di Joe Biden, l'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà dell'hamburger, il quale ha commentato, e non poteva essere altrimenti, l'attentato ai danni del suo rivale Donald Trump, il quale per fortuna è sopravvissuto alla sparatoria che lo ha coinvolto in Pennsylvania mentre stava tenendo un comizio politico. Biden ha espresso parole di ferma condanna del gesto, come è giusto che sia, e ha altresì detto che bisogna fare un passo indietro. Ha precisato che tutti siamo americani e che i nemici politici, gli avversari, meglio sarebbe dire, si affrontano a viso aperto, nelle urne e non certo con le sparatorie. Dunque il presidente Joe Biden ha espresso parole condivisibili, in questo caso di condanna fermissima dell'attentato, specificando che la battaglia politica si conduce politicamente e non certo con la violenza. Altresì precisato che la tensione per le elezioni non è mai stata così alta e che questi episodi sono indubbiamente condannabili sotto ogni profilo. In questo caso, anche se in maniera un po' convenzionale e quasi necessitata, Biden ha giustamente condannato l'attentato ai danni di Trump. Parole in questo caso condivisibili le sue che rivelano in qualche modo come Biden sia stato sicuramente più lungimirante, più ponderato e più cauto di alcuni giornali nostrani in Italia che invece hanno lasciato intendere che in qualche modo Trump se l'è cercata.